Musica Auletta, cambio in giunta, fuori l'assessore Lupo e entra la quota rosa. Turismo, progetto Cilento Blu, il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Valentino Di Brizzi, Matera ha dimenticato il suo Vallo di Diano. Polla, i passeggeri di Autolinea e Curcio, ieri in viaggio con Pino Aprile, autore del libro Terroni International. Nefro Day, domani secondo appuntamento a Sala Consilina. Sport Calcio, gli appuntamenti di eccellenza prima e seconda categoria. Buongiorno, ben trovati a un nuovo appuntamento con informazione di Uno News. In apertura alla politica andiamo ad Auletta. In un colpo solo il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, risolve un duplice problema. La rappresentanza di genere in giunta è la querelle legata alle parole dell'ex assessore Lupo, che viene escluso dalla giunta. Al suo posto nel ruolo di assessore esterno entra Dania Gavioli. Vediamo. Nelle scorse settimane il difensore civico della regione Campania aveva diffidato oltre 200 comuni per il mancato rispetto della normativa contenuta nella legge del Rio, che prevede la rappresentanza di genere in giunta. Tra questi comuni c'era anche Auletta, che ha provveduto a rispettare la norma introdotta con la legge numero 56 del 7 aprile del 2014. La nuova giunta sarà composta dal sindaco Pessolano, dal vice sindaco Cavallo. Esce invece Filippo Lupo e il ruolo di assessore esterno va a Dania Gavioli, già componente della lista uniti per Auletta alle ultime elezioni amministrative. In un sol colpo il sindaco Pessolano da un lato dà atto a quanto stabilito dal difensore civico e quindi garantisce la rappresentanza di genere in giunta, dall'altro risolve, tra virgolette, la questione legata alle dure parole espresse da Filippo Lupo su Facebook nei confronti dei dipendenti comunali, che, definiti velatamente dei fannulloni, aveva creato non pochi problemi e malumori e ancora non aveva visto il primo cittadino prendere un provvedimento. Gavioli entra quindi in giunta e avrà anche la delega alla cultura. E come trapella dalla maggioranza, la scelta è arrivata dopo una serie di consultazioni con il primo cittadino che in un sol colpo, dunque, ha risolto un duplice problema. La rappresentanza di genere in giunta e la carella scatenata dall'ormai ex assessore Lupo. Passiamo ora alla cronaca. Nel pomeriggio di ieri i militari della compagnia di Sala Consilina, al comando del capitano Emanuele Corda, hanno arrestato un quarantenne di Teggiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è scattato in seguito al ritrovamento di 16 grammi di hashish, suddivise già in dosi, all'interno di un circolo ricreativo gestito dall'uomo, sito nella località di Piedimonte. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche un bilancino di precisione ed altro materiale atto al confezionamento delle dosi. L'uomo è ora ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa di comparire davanti all'autorità giudiziaria di Lago Negro. Passiamo ora alla sanità. La campagna è divisa in sei macro aree nel nuovo piano sanitario in provincia di Salerno. Il Ruggi sarà il punto di riferimento. L'ospedale di Polla nella rete del 118. In sei macro aree è stata divisa la campagna nel nuovo piano sanitario di cui è stata scritta una bozza e già inviata al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Napoli 1 centro, Napoli 2 nord, Napoli 3 sud, Salerno, Caserta e Avellino Benevento con la provincia Irpine e quella sanita riunite in un'unica macro area. Le linee guida del nuovo piano sono, come riporta l'edizione odierna dei Il Mattino, chiudere le strutture insicure, trasferire i malati attraverso il 118 nelle parti attrezzati per le terapie, concentrare le cure oncologiche ma prevedere la radioterapia anche in provincia, rafforzare l'assistenza territoriale e le strutture di lungo degenza e quindi ridurre i posti letto per acuti. Il modello di riferimento è quello della Lombardia con un'unica azienda sanitaria dedicata alla gestione dell'emergenza. La vera novità è rappresentata dal tener conto anche dei servizi garantiti nelle cliniche private. Per quanto riguarda la provincia di Salerno, l'ospedale di Ruggi sarà il punto di riferimento per ictus, trauma e infarto. Sarà potenziato il centro tra pianti ed è prevista un'unità spinale e la neuro-riabilitazione. A Mercato San Severino sarà trasferita psichiatria mentre il San Luca di Valo della Lucania entrerà a far parte nella rete delle cure palliative e le emergenze digestive guadagnando anche 20 posti per la riabilitazione. Nella rete del 118 restano gli ospedali di Polla con ictus, infarto e trauma, Sarno mentre confermato è il pronto seccorso a Oliveto Citra, Battipaglia, Eboli, Castiglione di Ravello, Roccadaspite e Agropoli. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto turistico che rafforza i collegamenti da e per il Cilento. L'annuncio è giunto direttamente dal neo-assessore regionale al turismo Corrado Matera che ha spiegato attraverso il suo profilo Facebook anche quali saranno i comuni interessati ai collegamenti. Tra i tanti comuni del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni coinvolti risulta però totalmente assente il Vallo di Diano. Proprio sul mancato inserimento nel progetto del territorio valdianese è intervenuto il vice coordinatore provinciale del Partito di Forza Italia Valentino Di Brizzi che ne ricordare come l'assessore Matera è originario di uno dei più bei borghi campani il quale è Teggiano ha anche rimarcato la mancata attenzione posta al Vallo di Diano nonostante le grandi attrattive culturali e storiche presenti. Il turismo fonte di sviluppo per la parte sud della provincia di Salerno in queste aree potrebbe rientrare anche il Vallo di Diano anche se le recenti notizie mettono ancora una volta in evidenza una maggiore attenzione rivolta al Cilento piuttosto che al Vallo di Diano come fa a notare il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Valentino Di Brizzi. Nei giorni scorsi il neo assessore al turismo della regione Campania Corrado Matera di Teggiano ha presentato la prima grande iniziativa rivolta a favorire il turismo salernitano con il progetto Cilento Blue Club che prevede un rafforzamento dei collegamenti per i mesi estivi tra il centro nord Italia con la Campania e i centri capofila della Campania con la parte sud della provincia di Salerno quali Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro, Camerota e Sapri. Nessun cenno invece al Vallo di Diano e quindi nessuna agevolazione nei collegamenti al fine di favorire il turismo sul territorio su cui da diversi anni la politica vorrebbe investire come fonte di sviluppo. Sull'annuncio dell'assessore al turismo della regione Campania Corrado Matera e sulla mancata considerazione per il Vallo di Diano è intervenuto il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Valentino Di Brizzi che attraverso una nota stampa interviene proprio in merito al progetto presentato recentemente dall'assessore Matera Cilento Blue Club rimarcando sulla mancata inclusione del territorio valdianese nello stesso progetto. Cilento Blue è sicuramente un progetto degno di apprezzamento ha sottolineato Valentino Di Brizzi se non fosse per il fatto che almeno da quanto si apprende dalla stessa nota trasmessa dall'amico assessore Matera nessun cenno di collegamento viene previsto per il Vallo di Diano. Il bello, continua Di Brizzi, è che a più di una settimana dalla presentazione del progetto Cilento Blue nemmeno uno degli amministratori del Vallo di Diano che tanto si riempiono la bocca di voler proporre per la nostra terra un progetto mirato allo sviluppo turistico si sta lamentando o abbia sollevato la perplessità con il nostro assessore regionale che tra l'altro abita in uno dei più bei borghi della Campania qual è la nostra meravigliosa Teggiano e che può apprezzare quotidianamente le bellezze del nostro territorio a partire dalla splendida Certosa di San Lorenzo a Padula fino alle meravigliose grotte di Pertosa Auletta passando per la decantata Valle delle Orchidee Dopo decenni in cui abbiamo lamentato un'assoluta mancanza della rappresentatività prosegue il vice coordinatore provinciale di Forza Italia oggi che possiamo vantare di essere rappresentati dall'assessore al turismo in regione Campania ed avere la fortuna di avere quale presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino ci dobbiamo attendere, senza ulteriori rinvii finalmente la giusta attenzione per il nostro territorio Io, termina Valentino Di Brizzi sarò il primo a riconoscere e ringraziare questi politici per aver ridato al Vallo di Diano l'attenzione che merita ma nel frattempo intendo porre l'attenzione rispetto a quello che ancora una volta non viene fatto per il nostro territorio spero che una volta superato il detto Cristo si è fermato ad Eboli non ci troviamo a dover ammettere che nonostante la rappresentatività equilibri politici facciano in modo che stavolta Cristo si fermi a Vallo della Lucania e ad Agropoli Nei giorni scorsi Monsignor Antonio De Luca Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro ha accompagnato i fedeli della Forania di Padula Montesano a Roma in udienza da Papa Francesco un'esperienza coinvolgente che ha permesso di far conoscere al Papa le statue della Madonna del Cervati di Sanza accompagnata da Don Giuseppe Spinelli incoronata e benedetta dal Pontefice e poi le benedizioni anche delle statue di San Michele Arcangelo e San Giovanni Battista di Padula portate e accompagnate da Don Giuseppe Radesca una giornata intensa su cui intorno a qua abbiamo raccolto le parole del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Monsignor De Luca, ascoltiamolo La presenza della Beata Vergine Maria del Monte Cervati di Sanza San Michele, San Giovanni Battista di Padula ha consentito anche un momento di grande umanità perché si sono ricongiunti i nostri connazionali che vivono all'estero e che vivono in altri comuni d'Europa e d'Italia e così insieme abbiamo partecipato alla Catechesi sulla misericordia che ci ha offerto Papa Francesco misericordia io voglio e non sacrifici e sull'onda dell'anno della misericordia anche la celebrazione dell'Eucarestia presso l'altare della Cattedra in San Pietro è stato un momento significativo per riconfermare la nostra fede sulla tomba del Principe degli Apostoli, San Pietro Papa Francesco è molto attento alle espressioni di pietà popolare e a quelle forme di religiosità che indicano quella ricerca di Dio e che da sempre ha ancorato il nostro popolo alla ricerca sincera di eternità e di divinità questo anelito evoca soprattutto un forte impegno di conversione ma anche di impegno etico per la trasformazione della realtà Continua a raccogliere consensi e confermarsi tra le iniziative di maggior successo il progetto ideato da Giuseppe Curcio titolare di Autolinea Curcio e realizzato in collaborazione con Michele Gentile di Ex Libris Caffè di Polla che prevede a bordo dei bus di lunga percorrenza e importanti autori di libri i passeggeri a bordo del bus diretto a Roma hanno viaggiato con l'autore del libro Terroni International Pino Aprile apprezzando peraltro la trattazione da parte dello stesso autore delle novità emerse in merito ai fatti dell'unità d'Italia e al periodo postunitario Le Autolinea Curcio propongono viaggi che si rivelano sempre più momenti culturali alleggerendo notevolmente le lunghe traversate ieri una nuova esperienza per i passeggeri che dal Vallo di Diano e Sud Salerno hanno raggiunto Roma a bordo dei bus cardioprotetti delle Autolinea Curcio a viaggiare insieme a loro anche l'autore di numerosi scritti dedicati al Sud Italia e che con i suoi studi e i suoi approfondimenti riesce a trasmettere quell'orgoglio di appartenenza che fino ad ora è stato spesso tralasciato stiamo parlando di Pino Aprile giornalista e scrittore di origine pugliese che è stato vice direttore della rivista Oggi e direttore gigente Autolinea Curcio per favorire il confronto e la conoscenza dell'autore in viaggio sul bus sulla tratta Salerno Roma ha omaggiato i passeggeri di una copia del libro scritto dallo stesso Pino Aprile dal titolo Terroni International un volume in cui viene ripercorsa la storia del Sud Italia partendo da ciò che si era e ciò che è diventata a seguito dell'unità d'Italia un vero e proprio risveglio delle coscienze con scroscianti applausi partiti dai passeggeri che hanno trascorso oltre due ore di viaggio in modo molto piacevole tanto da non essersi neanche resi conto del tempo che trascorreva inesorabile ancora una volta l'iniziativa di Giuseppe Curcio e Michele Gentile di Ex Libris Cafè si è rivelata di grande interesse offrendo un nuovo modo di viaggiare tanti temi trattati e approfonditi dall'autore permettendo ai viaggiatori attenti e ai suoi discorsi di meglio conoscere le origini e il valore del Sud Italia un'esperienza e un modo di viaggiare che ha raccolto anche grandi elogi dallo stesso giornalista e scrittore ospite ieri delle autolinee Curcio che con un pizzico di rammarico nel parlare di questa iniziativa ha anche voluto sottolineare come l'idea di grandissimo spessore oggi ha avuto poco risalto sui media nazionali forse perché è partita dal Sud Aprile infatti si è soffermato sulla convinzione che qualora fosse stata ideata da un'azienda del Nord Italia telegiornali e trasmissioni televisive non avrebbero smesso di elogiarla per l'alto contenuto culturale e per l'ulteriore servizio offerto ai propri passeggeri Autolinea Curcio infatti in questi campi si rivela un'azienda all'avanguardia grazie proprio alle iniziative e alle idee promosse per migliorare la qualità dei viaggi di lunga percorrenza i bus con lunghe tratte da affrontare infatti sono tutti cardioprotetti quindi dotati di defibrillatore e con gli autisti abilitati all'uso inoltre su iniziativa di Michele Gentile di Ex Libris Caffè di Polla è anche possibile trovare una mini biblioteca a bordo degli stessi bus una vasta scelta di volumi tra i quali poter scegliere per una lettura che renda più leggero un viaggio e al termine i passeggeri possono decidere di acquistare il libro oppure lasciarlo a bordo del bus Viaggi con l'autore è solo l'ultima in ordine di tempo tra le iniziative promosse da Autolinea Curcio nata per gioco lo scorso mese di agosto ha raccolto un così ampio consenso da spingere Giuseppe Curcio e Michele Gentile a continuare nell'iniziativa portando a bordo dei suoi bus autori di sempre maggior rilievo e regalando ai passeggeri in occasione dei viaggi con l'autore una copia dei libri scritti dagli ospiti e ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri a bordo del bus della tratta Salerno-Roma all'autore del libro Terrone International Pino Aprile e al titolare di Autolinea Curcio Giuseppe Curcio Io faccio un lavoro da cronista sia pure applicato alla storia dei meridionali alle loro vicende e non faccio altro che recuperare tracce, fatti, eventi, documenti di narrazioni che sono state la parola giusta è nascoste per tutto questo tempo con l'intento ormai palese di indurre una popolazione un terzo d'Italia in una condizione di minorità di soggezione perenne il che è funzionale ad un progetto economico che è avviato un secolo e mezzo fa rimane intatto ancora oggi nonostante si mostri ormai datato dannoso persino per chi conta, spera, pensa di trarne vantaggio perché quel progetto economico e quello schema di economia appartiene alla civiltà industriale che oggi viene soppiantata da quella informatica quindi il sistema di potere di economia dell'Italia ormai è archeologia ma ancora ce lo tengono in piedi come tenere apparentemente vivo qualcuno con un tubo dell'ossigeno quello è morto abbiamo la possibilità di assistere chiaramente anche su uno sfiato bus dei bei momenti culturali dove si affrontano una serie di argomenti che può essere la sociologia la storia letteratura oggi siamo stati particolarmente fortunati perché Pino Aprile insomma ci ha regalato due ore veramente di grosso spessore culturale e soprattutto di non dico di scoperta ma sicuramente di risveglio di una certa identità che ultimamente soprattutto nel nostro territorio stiamo perdendo no vabbè dobbiamo avere cura noi non siamo imprenditori ma siamo diciamo artigiani nella recoluzione del servizio quindi bisogna curare particolari e certamente bisogna cercare di saper fare bene il proprio lavoro questo è un'aggiunta però non deve chiaramente disperdere l'attenzione sull'attività più importante questo è un qualcosa che gratifica sicuramente gratifica prima come uomini insomma poi come imprenditori abbiamo sicuramente in cantiere degli altri progetti degli altri progetti e diciamo di progettualità accessorie al trasporto ma fondamentalmente anche come trasporto quindi abbiamo dei nuovi collegamenti in essere che vogliamo realizzare che stiamo realizzando insomma insieme a collegare anche la Camerino Macerata intensificare quindi anche i collegamenti verso l'Umbria poi anche altre destinazioni abbiamo in mente anche un rinnovamento particolare del parco rotabile però poi ne parliamo più in là perché prima realizziamolo poi ne parliamo domani pomeriggio alle ore 18 e 30 presso il Teatro Comunale Amabile di Sant'Arsenio si terrà il concerto di primavera organizzato dal Circolo Banca Montepruno in collaborazione con la Banca Montepruno il Comune di Sant'Arsenio il concerto di primavera avrà come oggetto un importante periodo di musica napoletano l'Ottocento e sarà curato da Luca Gaeta insieme con le esibizioni di Esmeralda Ferrara soprano Francesco Napoletano tenore fedele Ciacciarino al flauto Luca Gaeta al violino e Antonio De Martino alla chitarra il concerto sarà a ingresso libero e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a Stalla Consilina dove per domani è prevista il secondo appuntamento del Nefro Day una giornata di visite gratuite offerte dalla NefroCare di Polla domani secondo appuntamento con il Nefro Day che porterà i nefrologi della NefroCare di Polla a Sala Consilina presso la Casa Comunale ad incontrare i cittadini salesi e non solo per controlli di prevenzione gratuiti dopo il successo e la tanta partecipazione avuta nella prima giornata che si è svolta domenica scorsa a Sant'Arsenio domani dunque il secondo appuntamento che ci viene presentato ai nostri microfoni da Maria Stabile Presidente del Consiglio Comunale di Sala Consilina una giornata di prevenzione per quanto riguarda le malattie dei reni importantissimo invito i cittadini a prenotarsi al numero 0975 52 52 95 per far sì che possono essere visitate da un'equipe di medici con l'aiuto di infermieri e del sostegno della Croce Rossa dove si terranno le visite? le visite si terranno presso il comune di Sala Consilina al primo piano passiamo ora allo sport con il calcio ultimo turno di campionato di eccellenza nel girone B il Valdiano cerca un piazzamento diverso nella griglia play out ma per ottenerla deve vincere e sperare che chi sta davanti esce sconfitto dai rispettivi impegni si torna in campo nel campionato di prima categoria a girone G dopo la sconfitta esterna contro il Santa Cecilia con la vetta della classifica che si è allontanata a quattro lunghezze il Montesano ha voglia di tre punti la sfida interna contro il Real Contursi Terme dovrebbe essere una passeggiata di salute per i ragazzi della DS Baldi che deve a questo punto sperare in un passo falso del Santa Cecilia per poter ambire la promozione diretta Santa Cecilia che dovrebbe essere impegnato domani pomeriggio in casa della Gregoriana dovrebbe perché per la Gregoriana ci sono dei problemi con la federazione la quale ha imposto la non disputa del match di domenica scorsa sul campo del Rofrano vedremo quello che accadrà intanto sarà trasferta per l'altra compagine valdianese il Certosa di Padula che se la vedrà sul campo del Pro Palinuro i ragazzi di Mister Spinelli cercano il terzo successo di fila gioca in casa invece la Pollese che al Medici riceve il Rofrano nel campionato di seconda categoria Girone L fare i puntati sulla sfida tra Pattano e Provatena ultimo appello per la compagine valdianese di risalire la classifica e avvicinarsi al primo posto altra gara impegnativa invece per la S di Sassano che tra le mure amiche riceve un'altra pretendente alla vittoria finale il New Massa Nel prossimo servizio Giuseppe Opromolla fa il punto degli appuntamenti delle squadre valdianesi nei campionati di prima e seconda categoria Trentesima giornata del campionato di eccellenza Girone B dove sono tutti da scrivere o quasi i verdetti alla città di Nocera basta un punto per avere l'aritmetica certezza del salto in Serie D oppure potrà anche perdere nella sfida contro il San Vito Positano ma l'FC Sorrento impegnato in casa contro la Scafatese Calcio a sua volta impelagata nella zona per evitare i play-out non dovrà vincere i play-off non si giocheranno troppi punti di distacco tra la seconda e la terza del campionato e quindi Montesarchi e Bolitane e West Scafatese così come il San Vito Positano giocheranno solo per la gloria molto si decide per la salvezza dove la condanna la retrocessione per il Sorrento Calcio immaturata da diverse settimane mentre c'è chi lotta per evitare i play-out Sant'Antonio Abbate Scafatese Calcio e San Tommaso gli abbatesi sono a 34 punti e basterebbe un punto per salvarsi tranquillamente mentre Scafatese Calcio e San Tommaso si giocano la permanenza in categoria senza passare dei play-out entrambe a 32 punti i canarini saranno di scena in casa dell'FC Sorrento mentre il San Tommaso giocherà contro il Massa Lubrenza che a 26 vuole fare punti per avere il vantaggio del fattore casa nei play-out vantaggio del fattore casa nei play-out che vuole anche il Castel San Giorgio che dopo l'impresa in casa del Valdiano gioca in casa contro il Faiano Massa Lubrenza Castel San Giorgio e Valdiano si giocano dunque negli ultimi 90 minuti il piazzamento nella post-season al Valdiano di Cammarota Manfredini serve un miracolo per cercare di avere il fattore casa nel match salvezza bisognerà innanzitutto vincere in casa del Sant'Antonio Abate e poi sperare che almeno una tra Massa Lubrenza e Castel San Giorgio perda il rispettivo incontro troppe variabili ma nulla impossibile anche se la sconfitta di sette giorni fa al Vertucci è stata una mannaia sulle speranze salvezze dei valdianesi Termina qui il nostro Tg io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti